Intervengo per chiedere che il Governo, nella persona del Ministro degli Interni Salvini, riferisca in aula, al più presto, su quanto è accaduto oggi nel comune di Castelnuovo di Porto, a nord di Roma, dove c'è il secondo centro rifugiati più grande d'Italia. Il centro rifugiati è stato sgomberato questa mattina, 320 persone sono state portate via. Nessuno sa che fine faranno, né il sindaco di Castelnuovo di Porto, né il comune e tantomeno i rifugiati stessi. Non c'è stata nessuna comunicazione preventiva tempestiva, nemmeno al personale di servizio del centro. Tutto è stato organizzato in 24 ore. Sembra solo ad oggi che i ragazzi verranno dislocati in altre regioni, ma non si sa dove li collocheranno, in quale città e in che tipo di struttura. I migranti sono stati avvisati solo il giorno prima che all'indomani mattina, alle 9, sarebbero stati portati via. Dopo anni di integrazione avrebbero dovuto lasciare i loro alloggi, avrebbero dovuto lasciare anche le occupazioni lavorative precarie che attualmente molti di loro svolgono. Molti non hanno nemmeno una valigia. I bambini dovranno interrompere gli studi e c'era chi era arrivato alla seconda media. Chi aveva trovato lavoro dovrà lasciarlo. Ci sono donne che hanno vissuto anni molto duri e molte hanno un bimbo con sé. Chi verrà portato via perderà il diritto di difendersi perché l'Avvocato è di nomina regionale e cambiando la regione dovranno ricominciare da capo. Chiediamo che il Governo riferisca in aula su questa vergognosa operazione di vera e propria deportazione. Essa stravolge i principi della Costituzione, oltre alle norme elementari di rispetto della persona umana. Chiediamo se questa sia davvero un'azione finalizzata alla sicurezza dei cittadini, visto che si colpisce una struttura che, pur con i suoi enormi limiti, consentiva a progetti di integrazione e controlli che ora saltano, mettendo a rischio sia i cittadini stranieri che gli stessi residenti. Queste sono le conseguenze della norma sulla sicurezza recentemente approvate in quest'Aula del cosiddetto Decreto Salvini.